Al primo posto sicuramente il contenuto delle lezioni, sono state veramente molto interessanti e penso difficilmente in altri contesti formativi recuperabili. Il secondo aspetto sicuramente i docenti, tutti di altissimo livello, sono riusciti a tenere sempre viva l'attenzione e come hanno gestito poi argomenti così interessanti, il fatto che poi provengano da realtà formative anche diverse ha dato la possibilità di avere un livello di formazione che normalmente trovo difficile trovare anche in altri contesti. Il terzo aspetto è un po' questo concetto della scuola, insomma che comprende un po' tutto, comprende la scuola come struttura, comprende i docenti ancora, ma comprende il team della scuola, sicuramente tutte persone valide, disponibili, insomma siamo stati tutto bene, ma anche il concetto degli studenti, noi come classe si è instaurato un buon rapporto e adesso penso che resteremo comunque sempre in contatto. Tutti i contenuti delle lezioni sono stati estremamente interessanti da un punto di vista professionale, però lasciatemi dire, ce n'è uno in particolare che porto via molto, un paio in realtà, molto porto via. La lezione sul crisis management è stata veramente molto interessante e anche, direi, non magari a livelli altissimi, però applicabile nelle realtà professionali presso le quali posso superare, quindi interessantissimo. Questo e gli altri aspetti sono quelli ad esempio trattati oggi, quindi della vista sul futuro, che forse un po' mi manca, quindi una vista sul futuro dell'Europa e una vista sul futuro, una crescita personale, professionale che ci è stato dato oggi è stato assolutamente molto interessante. I docenti, il contenuto delle lezioni, con dei focus particolari e poi la scuola. Grazie. Grazie. Grazie.